Tentato furto alla scuola Don Salvatore Guadagno di Mercato San Severino, i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto dei colleghi di Salerno, hanno arrestato a Mercato San Severino due persone originarie di Somma Vesuviana. I ladri sono entrati di notte nel plesso di via Municipio nel tentativo di rubare alcuni computer. I residenti, insospettiti, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino, guidati dal comandante Alessandro Cisternino, facendo saltare il piano dei due. All'arrivo dei militari, infatti, i due ladri sono fuggiti, lasciando a scuola le buste nelle quali avevano nascosto la refurtiva, composta da 39 tra pc e tablet. Uno dei due è caduto dal primo piano ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Fugito, dove è ricoverato a causa di diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. Il complice, invece, è stato individuato dai carabinieri e arrestato. Grazie a tutti.